La molla te le taglia lei, ti fa una bella cosa. Ma perché sono dure, tanto dure. No, sono lunghe e mi viene male a me. Ma no, io so. No, lei vede, sei tu che non vedi, lei vede. Ma ce l'hai il tagliaunghie? Perché io non so se l'ho messo in valigia, mi sa. Ma si che ce l'ha il nonno, ce l'ha 50 tagliaunghie. Vai a prendere un tagliaunghie, quei tronchesini che c'hai, i tagliaunghie tuoi, dove sono? Che ti mettiamo a molla con le mani dentro che diventano morbide e te li mette a posto. Cammina, cammina, che non sia mai una disgrazia dell'ospedale che ti chiamano, vampiro ti chiamano. Vampiro ti chiamano, non ci mi sa. Nonno, vai a prendere il tagliaunghie. Se ne so dove è il tagliaunghie. Nonna, dov'è il tagliaunghie? A me. Fai la foto così la metti su Facebook che la guarda Anna Lucia. Ah, sì, ma collegatevi, se riuscite vi conoscete. Nonna, di qualcosa, saluta a zi Anna. Fai ciao. Ciao, ciao Anna. Togli la mano dalla faccia. Nonna, la faccia, sposta la mano. La mano, se non ti metti lo devi. Di qualcosa. Fai ciao cosa. Che devo avere. Ciao Anna. Ecco, così, bravo. Bravo, l'amore. E basta. Ciao Anna. E ciao. 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 Di un pensiero. Ciao. Dile, ma non rompere. E quando viene qua? Ciao. Ciao. Ciao.